Buongiorno signori, buongiorno, oggi match day, non lo so, devo dire la verità, non lo so, non chiedetemi sensazioni pronostici perché ormai le partite della Juventus sono un testa o croce, è difficile anche proprio andare nel dettaglio, poi analizzarle, poi andare a raccogliere tutti i dati che vuoi, poi sono un vulcano le partite della Juventus, un vulcano, però possiamo fare una panoramica su quelli che sono oggi i nostri avversari, non esagero se dico che è la partita peggiore che poteva capitarci in questo momento, perché Lecce è una squadra che è partita molto bene, mi sembra la classica squadra piccola che deve salvarsi a parte molto forte, poi rallenta sul lungo, però significa che in questo momento sono in forma e vedrete, lo confermeranno anche i dati, ci sono dei dati clamorosi su Lecce a cui non potevo credere quando li ho letti, mi sono stropicciato gli occhi, e aspetto a vedere la vostra reazione qui sotto nei commenti. Tanto Lecce terza, Juventus quarta, e questo fa già ridere ma anche piangere, deve farci ridere ma soprattutto piangere. Lecce atalanta saranno partite toste, toste e delicate, perché sono sei punti in paglio nelle prossime cinque giorni, giornate, cinque giorni proprio, veri e propri della settimana, e sono squadre che, dando un'occhiata alla classifica, sono attaccate a noi, quindi ad oggi sono scontri diretti, e quindi sono partite da sei punti l'una, dodici se proprio vogliamo contare che sono sei e sei. Nel Lecce c'è un giocatore, soprattutto in questo momento dal punto di vista atletico, che è Ramadani, corre una media di quasi tredici chilometri a partita, che è superiore allo standard dei giocatori che abbiamo affrontato fino adesso, ma banalmente anche allo standard dei nostri. Stiamoci attenti perché questo qua è una vera e propria molla, dinamico al punto giusto, e fa sicuramente la differenza. Il Lecce è una squadra non precisissima nei passaggi, ma che arriva spesso al tiro, significa che sono una squadra verticale da ripartenza, questo un po' mi preoccupa non tanto per le loro caratteristiche, quanto più perché potrebbero lasciarci il possesso di palla, proprio perché se sono una squadra che puntano a non palleggiare, ma puntano ad andare avanti, questo potrebbe essere un problema. Infatti cerchiamo di dare un'occhiata anche alle statistiche generali delle squadre. La Juventus fa più gol, in questo momento ne ha subiti di più, tira bene o male come il Lecce, siamo molto molto vicini come dati, anche ad assist non ci discostiamo tanto. La Juventus ha più passaggi riusciti, più percentuali di passaggi, più passaggi sulla tre quarti, ed è quello che vi dicevo prima, dato che noi solitamente abbiamo fatto le nostre partite quando non palleggiavamo, ma quando facevamo break, temo che il Lecce ci metterà nella situazione di dover fare la partita. E noi in questo non siamo bravi assolutamente. Sono una squadra che picchia, hanno fatto veramente tanti tanti falli, sono una squadra che dribbla, ma questo lo vedremo dopo, una squadra che comunque tiene un baricentro alto, una squadra che tira pochi corner, se vogliamo, non crossa tanto come la Juventus, ma sicuramente una squadra interessante, perché se dopo sei giornate sono al quinto posto, anzi al terzo posto in classifica, significa che non sono una squadra come le altre. Sono anche noni in Serie A per recuperi palla, che appunto possano trasformarsi in ripartenze o in possibilità offensive per il Lecce, e insieme all'Atalanta, al Sassuolo e appunto alla Juventus, sono tra le squadre in Serie A con più dribbling. Questo è un dato che avevamo già visto anche al giorno della partita, al match day di Sassuolo-Juve, è un dato che non ha portato per niente bene, è un dato secondo me abbastanza preoccupante, anche perché noi abbiamo sofferto col Sassuolo, Berardi, Lauriente e anche Enrique, che sono stati giocatori che hanno dribblato tanto. Quindi occhio, perché col Sassuolo abbiamo visto che queste situazioni le soffriamo al di là degli errori individuali, al di là di tutto. Oggi c'è il Lecce, che è una squadra che dribbla tanto, e poi c'è proprio l'Atalanta, quindi stiamo parlando delle squadre con più dribbling in Serie A. dovrebbero uscirne partite pirotecniche, spero non pirotecniche come Sassuolo-Juve dall'altro giorno, perché quello è un po' un problema. Il Lecce è la miglior squadra, la miglior squadra in Serie A per gol segnati dalla panchina, ben 4. Su 8 gol segnati, infatti, il Lecce ha una suddivisione abbastanza strana, abbastanza particolare. Ha fatto soltanto 2 gol nel primo tempo, e questi due gol sono arrivati comunque nei primi 15 minuti. Ma ben 5 gol sono stati segnati da Lecce negli ultimi 15 minuti. Questo che cosa significa? Che se non stai sul pezzo, concentrato, fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo istante di partita, contro una squadra di questo tipo, rischi forte. È esattamente il contrario rispetto a quello che vi dicevo con il Sassuolo. Il Sassuolo, statisticamente, è una squadra che segna nei primi 15 minuti. L'ha fatto anche con la Juve. E poi invece va un pochettino a subire sul finale. Era successo anche questo. La Juve l'aveva comunque rimessa in piedi. E poi ci sono stati degli episodi che ovviamente hanno portato alla sconfitta. Ecco, Lecce è diverso. Il Lecce è una squadra che si segna nei primi 15 minuti, però poi si concentra negli ultimi 15. Quindi bisogna stare molto, molto attenti a questa cosa. Se l'altra volta vi ho detto attenzione alla partenza, stavolta vi dico attenzione al finale. Perché sono una squadra strana. E poi c'è un altro dato che questo è clamoroso, incredibile. Perché il Lecce, fino ad oggi, in Serie A, non ha mai, mai, mai subito un gol nel secondo tempo. Ecco. Non avrei mai subito un gol nel secondo tempo. Unito al fatto che, appunto, il Lecce, fino all'ultimo secondo, dovevi stare concentrato, se non ho un problema, e unito alla concentrazione che ho visto da parte del Juventus in ultima giornata di Serie A, mi fa pensare e dire che il Lecce è in assoluto la peggior squadra possibile da incontrare in questo momento e a poche ore dalla partita con il Sassuolo. È una squadra di Lecce che ha delle armi. È una squadra di Lecce che ha delle caratteristiche. È una squadra di Lecce che può farci male. Non dobbiamo assolutamente sottovalutarli. Non dobbiamo assolutamente pensare ma sì, Reggio Emilia è andata così perché è stata una serata storta. No, ci sono dei problemi che ci portiamo dietro e ci sono dei problemi che, se ignoriamo, già questa sera con Lecce possono fare la differenza, ma è negativo per la Juventus. Attenzione. Arriviamo alla formazione perché ci sono dei cambi, ma questo lo sapevamo già. Lecce li aveva annunciati nella conferenza stampa pre-Sassuolo Juve. Quindi di questo eravamo abbastanza tranquilli. Abbiamo Cesni, confermato in porta. Non mi sorprende perché solitamente un giocatore di Allegri quando commette questi errori viene confermato se ha uno status internazionale. L'avevamo già visto con Cesni proprio in occasione delle papere dopo Udinese-Juventus di due anni fa. Non viene confermato Gatti, probabilmente. E qua non mi sorprende neanche questo. Mi aspettavo molto più Cesni titolare rispetto a Gatti anche se pensavo che Gatti potesse mantenere lo status da titolare in questa partita. Dovrebbe giocare Rugani al suo posto con Bremer in mezzo e Danilo sul centro-destra. Sugli esterni si cambia tutto, cambia as-UEA. Locatelli era più confermati anche a discapito di una prestazione non proprio di livello a Reggio Emilia. Dovrebbe giocare Fagioli al posto di Miretti. Fagioli sicuramente un giocatore che aiuta tanto dal punto di vista del palleggio per le sue caratteristiche piuttosto che Miretti che è un giocatore più incursore che si muove di più solo a tre quarti. E davanti, ballottaggio tra Chiesa e Vlaovic. Cioè uno dei due dovrebbe riposare. L'unico certo dovrebbe essere Milik con Moise Ken non disponibile. L'aveva detto ieri Allegri. Ha avuto questo problemino che è tornato fuori e dovrebbe non far parte della partita in casa della Juventus. Signori, lo torno a dire perché secondo me è un concetto molto importante. Non sottovalutiamo il Lecce. Se si trova lì c'è un motivo. Se si trova lì è perché in questo momento stanno cercando di spingere finché ne hanno perché probabilmente hanno fatto una preparazione atletica per essere in forma subito per arrivare concentrati e per fare i punti necessari a mettersi via un pochettino la salvezza. Poi sicuramente sul lungo andranno a mollare qualcosa. Sono una squadra con dei giocatori che hanno dei colpi. Hanno l'attaccante che è molto molto tecnico. Hanno preso anche un esterno importante che ha fatto gol con la Lazio. Ovviamente parlando di Christovic e Anquist che sono dei giocatori a cui dobbiamo prestare attenzione per forza di cose ma non solo nei titolari. Anche dare un'occhiata a quelli che entrano perché magari sono più freschi perché magari hanno più gamba e risultano decisivi. Quindi stiamo qui concentrati e ci vediamo stasera ovviamente per tutti i contenuti inerenti alla partita però se devo dirvi la verità non riesco ad essere tranquillo perché questa Juventus è una vera e propria montagna russa. L'ha detto anche ieri Allegri ed è un dato di fatto. Ciao.